In collaborazione con Assicop e Emilia Nord, agente generale per Unipol Sai Assicurazioni, e Unipol Rental per le province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Telefono 0522 384384. Buonasera amici del Salotti Sabbat Bans, benvenuti alla quarta e ultima puntata di questo mese di marzo. Buonasera Nicola Marchese, il nostro registro produttore. Buonasera e benvenuti all'ultima puntata del The Best Of. Ragazzi, siamo già giunti al termine. Vuoi salutare tu adeguatamente i nostri amici per l'ultima puntata, dare tu lo stacchetti? Ma cosa faccio? È un addio, no? No, 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 è un arrivederci, è un arrivederci. Come dicevamo sempre, ne approfittiamo per ricordarvi, anzi no, per ringraziarvi che avete seguito in tanti queste puntate. Chissà, ritorneremo? Non si sa, non si sa. C'è sempre questa luna di mistero intorno all'ultima puntata di ogni edizione, ormai ne abbiamo fatte tante che abbiamo sempre lasciato un po' nei nostri amici. Non ci credono più, non ci credono più. E allora iniziamo con lo sport che io amo tanto, con il calcio che io amo tanto, ormai pian piano Nicola, cioè sei entrato anche tu. Ah niente, me ne devo fare una ragione, me ne devo fare. Esatto. Allora partiamo con una donna bolognese, una passione innata per il calcio, prima giocato e poi parlato. Ci ha presentato nell'intervista che è andata in onda il 24 aprile dello scorso anno, ci ha presentato il suo libro Una vita in fuorigioco, cronache del mondo che tutti pensavano di conoscere, lei è Katia Serra. Buonasera Sabrina, buonasera a tutti. Buonasera Katia, allora l'abbiamo conosciuta sulle pagine di Sabatvance e vi invito ad andare a rileggere l'intervista che ci ha rilasciata ad agosto 2022 in quanto donna del mese e poi l'abbiamo rivista pochi giorni fa perché sempre su Sabatvance abbiamo pubblicato anche un po' di notizie sul suo nuovo libro e del quale parleremo dopo. Abbiamo già visto la locandina che ha fatto passare il nostro regista Nicola della locandina della donna del mese, della donna di agosto 2022 e parliamo un po' con lei che ci racconterà un po' tutta la sua carriera, la sua lunga carriera di calciatrice, lei è bolognese e nasci con una passione innata per il calcio, vero? Sì esatto, qualcosa che ho sempre avuto nel sangue sin da piccolina, giocare era la cosa che mi divertiva di più, faccio parte di una generazione pionieristica dove naturalmente oggi nel 2023 raccontare di essere calciatrice è diventato la normalità, praticamente negli anni 80 invece era un'eccezione dell'eccezione dell'eccezione, quindi era anche complicatissimo far capire di avere questa grande passione. Tu hai giocato per 24 anni, sei una centrocampista, all'attivo hai uno scudetto con il Modena, tre Coppe Italia, una Supercoppa italiana e hai concluso la tua carriera nel campionato spagnolo, in più hai giocato anche nella nazionale italiana, un bel parmarestile. Sì, diciamo che appunto ho avuto la fortuna e il privilegio insomma di vincere anche non solo di divertirmi e l'esperienza finale quella in Spagna è stata molto stimolante perché là sì che ho giocato solo di scoperti a calcio, a differenza di quando ero in Italia che come tutta la mia generazione di giorno si lavorava e mi allenavo la sera e questo per dire insomma che non è mai stata una professione come tutto lo è detto ad oggi. Come ti sei avvicinata al calcio? Cioè cos'è stata la molla che ti ha portato a diventare una calciatrice? Perché appunto come hai detto tu in quegli anni non era la normalità, ma era proprio un'eccezione. Sì, l'istinto sai perché era piccola in casa che era più grande, ogni volta che avevo la mano calciavo. Poi io ero nata per fare sport perché era una bimba che in qualsiasi disciplina riusciva, potevano anche tutti i miei compagni, i miei amici, quindi spiccavo molto, ho fatto tanti sport, riuscivano tutti ma alla fine il calcio era il preferito. Dopo il ritiro hai svolto incarichi di rappresentanza nel calcio, cioè non l'hai mai abbandonato? Sì esatto, perché già mi hanno cominciato a coinvolgere mentre ero in carriera proprio perché era una persona che anche dentro agli spogliatoi si impegnava per il gruppo, per la squadra quando c'erano problemi, ero sempre io che andavo a gestirli con i dirigenti, quindi avevo un po' questa caratteristica per cui mi scelsero per rappresentarli a livello sindacale. Ho fatto ben 17 anni di sindacato dentro l'associazione italiana calciatori, lì le cose sono state complicatissime all'inizio perché era come se noi non esistessimo, poi nel 2011 è arrivato come presidente Damiano Tommasi, ex calciatore della Roma, dell'Italia, un uomo molto sensibile, molto aperto e insieme a lui abbiamo girato in lungo e in largo l'Italia per convincere gli scettici e per impegnarci nel costruire un futuro migliore per tutte le bimbe e tutte le donne che amavano giocare, è stato un percorso molto lungo e complicato, con tante porte chiuse ma a forza ad insistere e con gli argomenti giusti siamo riusciti a spalancare dei portoni. Però c'è ancora tanto da fare secondo te? Sicuramente con l'introduzione del professionismo datato 1 luglio 22 per quanto riguarda la serie A, oggi lì abbiamo già raggiunto il top perché è un lavoro tutelato a tutti gli effetti come qualsiasi mestiere che esista al maschile e al femminile. Nelle categorie sotto sicuramente c'è ancora tanto da fare perché queste tutele mancano tutte le mancano e poi in generale comunque se lo guardiamo da un punto di vista culturale si può fare ancora tanto di più perché è vero che in 30 anni sono cambiate un sacco di cose ma ad oggi la realtà è che siamo un paese geograficamente molto diverso e quindi non in tutte le zone si accetta con serenità il fatto che una bimba abbia voglia di giocare. Ed è vero, verissimo quello che stai dicendo. Senti tu dopo il calcio giocato sei passato a incarichi di rappresentanza ma non hai mai pensato di fare l'allenatrice? Ma come ti raccontavo io ho sempre lavorato oltre che a giocare perché era necessario farlo e quindi avendo studiato all'ISE, essendo insegnante di educazione fisica e avendo preso i vari patentini per allenare io in realtà ho allenato tanti anni mentre giocavo allenavo però a livello giovanile e fino alle categorie in cui era permesso farlo perché altrimenti quando poi il livello cresceva non potevi essere tesserata per una squadra e giocare per un altro club. Quindi diciamo che non è come oggi che la stessa squadra ti dà la possibilità sia di giocare che di allenare. Al tempo praticamente le squadre femminili erano inesistenti e quindi riuscivi solo a giocare ma non allenare le rispettive bambine della stessa società perché non c'erano quindi l'ho fatto a livello maschile in contesti diciamo ridimensionati. Poi sì ti dico ho pensato seriamente di farlo appena smesso ma in maniera del tutto casuale è iniziato un percorso da opinionista e commentatrice televisiva e da lì è iniziato una nuova attività che mi ha entusiasmato sin da subito e ho continuato a cavalcarla. Eccola ti vediamo con microfonata con alcuni colleghi durante probabilmente una delle tue dirette. Infatti nel 2010 come hai detto è iniziato la tua carriera di commentatrice tecnico opinionista per la RAI, per le partite di calcio femminile e poi per i campionati europei. Sei stata la prima donna a commentare la finale maschile degli europei. Ci hai fatto sognare quella sera nel 2021 quando la nazionale di calcio italiana ha vinto gli europei. E noi abbiamo fatto tutto il tifo per te, lo sai, si era scatenato il mondo perché finalmente una donna commentava una partita, una finale maschile. Una finale che è andata anche in un certo modo direi. E quindi veramente la tua voce ci ha accompagnato in questa vittoria. Cosa hai provato quella sera? Beh è naturale che quello è stato l'apice di una carriera che a livello maschile in realtà già dopo il primo anno solo di femminile aveva cominciato a costruirsi come carriera perché erano già dieci anni che io commentavo il calcio maschile partendo proprio dalla gavetta, quindi la Lega Pro, la Serie B, la Team Cup, le nazionali giovanili. Insomma un percorso molto lungo ma dove non si erano mai accesi i riflettori perché sostanzialmente quando lo facevo soprattutto i primi 5-6 anni venivo percepita come un'intrusa, una persona che non si capiva bene perché fosse lì eppure aveva tanta competenza, tanta conoscenza ma nessuno si spiegava il fatto che avessi quelle opportunità perché in realtà solo dal 2019 dopo i mondiali femminili in Francia si è cominciato a parlare di calcio femminile e finalmente si è capito che il mio sapere e la mia conoscenza erano derivate dall'essere stata una calciatrice di punta e quella sera è stato chiaramente l'apice non solo per l'aspetto mediatico e per tutto quello che ne ha conseguito ma proprio perché come ricordavi bene tu non era mai successo non solo in Italia ma al mondo per cui io improvvisamente mi sono ritrovata a essere la donna più desiderata e in questo senso le emozioni sono state fortissime, indescrivibili anche oggi insomma se ripenso a quello che ho vissuto dal momento in cui mi è stato detto parti è qualcosa che probabilmente è irripetibile perché poi si è concluso con la grande vittoria dopo 53 anni che gli azzurri non alzavano quella coppa quindi puoi capire insomma come ovviamente c'è stato anche il trionfo e non voglio neanche pensare se invece non fosse arrivata quella vittoria cosa poteva capitare, non voglio neanche pensare senti una curiosità, per quella serata ti sei preparata oppure sei andata così? hai detto come va va? allora premesso che io sono sempre molto meticolosa e scrupolosa studio tantissimo, vedo tanti video, tante partite eccetera lì non c'è stato fondamentalmente il tempo perché tutto questo ho ricordato, io e il mio collega Bizzotto siamo subentrati perché i colleghi che dovevano fare la finale hanno preso il Covid quindi in una situazione di emergenza ci hanno chiamato all'ultimo e fino all'ultimo non erano sicuri che ci fosse bisogno del piano B che eravamo noi perché hanno fatto le controanalisi insomma speravano che tutto rientrasse, così non è stato quindi sostanzialmente sì un po' ci ho lavorato nel senso che tra un aereo e l'altro, tra un taxi e l'altro e anche la notte prima qualcosa ho studiato però molto poco scusa Katia hai dormito la notte prima? sì perché voglio la verità, allora pensavo di no perché comunque è normale in casi come questo invece forse sarà stato tutto lo stress vissuto dal sabato mattina alle 11 quando mi hanno detto parti fino appunto a quando alla sera sono arrivata a Londra che non c'è stato materialmente il tempo di staccare perché ero sempre al telefono per rispondere a tutte le persone che mi cercavano che alla fine ho dormito perché sono arrivata proprio sfinita senti prima di parlare del tuo libro una domanda pensi che ci sia ancora tanto da fare per le donne nel calcio? ma sì perché comunque in generale come si diceva in precedenza la donna può ricoprire diversi ruoli non solo quello di calciatrice e non sempre si ha la lungimiranza di capire che ognuno di noi alle spalle ha un percorso di vissuto di un certo tipo che comunque siamo persone che studiano, si informano precise, determinate per cui insomma non lasciamo nulla al caso e a volte credo che questi aspetti caratteriali anziché essere visti come un valore aggiunto un po' spaventano chi magari è più abituato a ricoprire certi ruoli impegnandosi certamente sì ma senza essere così scrupolosi è vero, approvo, approvo in pieno e dico sempre che noi donne a livello calcistico dobbiamo fare sempre il doppio e non è mai abbastanza secondo me, questo è un po' quello che penso io esatto e aggiunto e aggiunto che se invece non è abituato a essere distanto staccantissima magari ci perseguisce più il problema come una risorsa esatto come ha detto Arrigo Sacchi nella sua propria spaventato un po' io amico per questa nostra caratteristica e allora veniamo al tuo libro del quale abbiamo parlato su Sabat Vans anzi potete andare sulla pagina a rivedere un po' quelle che sono scritte insomma un po' le notizie sul libro su Katia Serra se sfogliate la pagina vedrete che qualche settimana fa è uscito appunto il post Una vita in fuorigioco che parlava del libro di Katia lo vediamo nella foto e adesso però ce l'abbiamo qua chiediamo anche di fare vedere il libro visto che lei ce l'ha sicuramente e di parlarci eccolo Una vita in fuorigioco che sta presentando un po' in tutta Italia vero stai facendo la promozione del libro e gentilmente sei venuta anche da noi quindi visto che ci sei tu adesso ce lo facciamo raccontare da te com'è nata questa idea e di che cosa parla questo libro? Sì ti confermo che sono impegnata a promuoverlo e sono stata semplicemente cercata dalla casa editrice che come si diceva in precedenza insomma la risonanza di Wembley è stata molto forte e quindi mi hanno chiesto di raccontare il mio personaggio chi c'era dietro a questa biondina che ha raccontato la vittoria degli azzurri e quindi l'idea è stata proprio questa di alternare il racconto di Wembley a tutto il mio percorso che come si diceva è partito da lontano mi ha visto ricoprire diversi ruoli proprio perché se sei una donna e stai nel calcio non potevi pensare di impegnarti solo giocando ma era necessario accompagnarlo con più cose io ho sempre avuto il calcio nel sangue e quindi lì racconto tutta la mia carriera che prima tu raccontavi tra calciatrice, opinionista, sindacalista e mi piace l'idea di aver fatto questo continuo passaggio da Wembley alla mia carriera sviluppando anche alcune tematiche delle donne che stanno nel mondo del calcio per spiegare un po' la partenza la prospettiva e anche i tanti ostacoli che si affrontano nel quotidiano è il libro dove possiamo trovarlo? in tutte le librerie perché comunque è nelle principali ma anche nelle librerie piccole nel caso non si trovi basta chiederlo e in pochissimi giorni arriva e poi online su Amazon Feltrinelli, Mondadori, Rizzoli IBS i principali canali di vendita si trova arriva in pochissimo tempo e so che stanno molto bene ma diciamo che mi auguro che si legga sempre di più non avevamo dubbi senti adesso tu di che cosa ti occupi? io ho visto che stai commentando le partite del campionato femminile e io adesso in questo momento no, il campionato no perché la RAI non detiene i diritti quindi non è possibile io commento la nazionale maschile l'Italia Under 21 che appunto mi è stata affidata dopo insomma Wembley e anche qui è stata la prima volta insomma nella storia che una donna ha questa opportunità poi quando invece gioca la nazionale femminile io faccio l'ospite in studio e ahimè al momento in RAI solo le nazionali perché appunto non abbiamo i diritti delle partite però di recente per Radio RAI ho commentato i mondiali del Qatar e per quanto riguarda l'Under 21 a giugno ci sarà l'Europeo con i nostri ragazzi impegnati in questo grande evento e io li commenterò come pure seguirò il mondiale delle ragazze che invece ci saranno tra luglio e agosto e quindi mi aspetta un'estate insomma piena di impegni azzurri bene e allora Katia noi ti ringraziamo tu sei l'ultima ospite dell'ultima puntata di questa stagione non potevamo che chiudere in bellezza veramente con un personaggio così importante e così pieno veramente di cose da raccontare io vi consiglio ancora il libro di Katia Serra Una vita in fuorigioco magari lo facciamo ripassare anche con la copertina ti ringrazio eccolo ecco qua la copertina Katia ti ringraziamo ti mandiamo un abbraccio e soprattutto ti aspettiamo sui teleschermi perché vogliamo sentire ancora la tua voce e quest'estate ci hai detto che sarai molto impegnata grazie mille della partecipazione grazie un abbraccio Assicop Emilia Nord Agente Generale per Unipol SAI Assicurazioni e Unipol Rental per le province di Reggio Emilia Parma e Piacenza telefono 0522 384384 e rimaniamo nello sport rimaniamo nel calcio riproponiamo l'intervista che abbiamo avuto l'onore di poter fare nel salotto di Sabat Vance al bomber del Chievo Sergio Pellissier che ricordo all'attivo 635 partite 175 reti attualmente dirigente e fondatore presidente della Clivense Calcio quindi rimanete sintonizzati con noi per ascoltare questa bellissima intervista Sergio Pellissier ciao buonasera a tutti buonasera intanto ricordiamo che è stato uomo di gennaio Sabat Vance quindi se volete potete andare sulla pagina Facebook e Instagram e rileggere l'intervista quindi potete scorrere questa bella intervista che mi ha rilasciata che veramente io sono onorata vediamo anche la locandina che è andata con alcune delle foto diciamo che rappresentano un po' la vita e la carriera di Sergio Pellissier e intanto grazie per per aver partecipato e grazie per la disponibilità per questa per questa serata e intanto e poi per chi non ricordasse tutto parte qua di fianco a me te lo presento Alex Bartoli giornalista sportivo quindi sicuramente lui mi aiuterà che ci proviamo la carriera è importante memoria non è facile quindi se leggi mi sono scritto un sacco di cose quindi attaccante attualmente dirigente sportivo e fondatore presidente della Clivense però prima di arrivare alla Clivense partiamo dal 2000 quando arrivi al Chievo e diventi la bandiera giallo-blu un bel po' di anni fa direi però non possiamo non partire da lì non possiamo no no beh certo sono arrivato da una gavetta di due anni dei serie C che allora si chiamava ancora serie C il Chievo ha creduto in me mi ha portato a Verona fatto sei mesi sei mesi di di giri per stadio perché non mi ha praticamente mai fatto fare neanche un minuto mister del neri e a gennaio sono andato a giocare a Ferrara dove ho fatto un anno e mezzo dopo quell'anno e mezzo sempre di serie C sono tornato al Chievo che era in serie A e da allora ho fatto praticamente tutta la carriera ho finito anche la mia carriera al Chievo quindi sono passati un bel po' di anni dopo sì con la maglia numero 31 sì 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 ho praticamente dal 2002 che ho quella avevo quella maglia e sono un abitudinario mi sono affezionato e ho scelto di non cambiarla più più di 140 reti con quella maglia ho scritto giusto perché poi ho preso i dati non so io sai che le statistiche di solito i giocatori le contestano un po' sempre quindi io mi sono io ho trovato più di 140 reti con la maglia 31 del Chievo 635 partite in totale 175 reti in totale sì super giù adesso non me ricordo ma più o meno sono quelle le cifre sono dei numeri importanti sei un po' l'uomo dei record primattista di presenze nel Chievo 517 presenze in serie A 459 presenze e sei stato il marcatore tra virgolette più anziano della serie A hai segnato 39 anni diciamo che adesso sono sesto perché davanti a me ci sono quelli ancora più vecchi come Ibrahimovic che ha fatto gol domenica è diventato il più vecchio in assoluto marcatore della serie A sicuramente del Chievo sì però sono traguardi importanti forse la scelta di rimanere in quella società è anche perché puoi lasciare un segno un ricordo anche ai tuoi figli perché comunque lì ho potuto fare dei record che forse in squadre più importanti non sarei riuscito a fare poi sei arrivato in nazionale con l'IPI nel 2009 sì diciamo che ho fatto una presenza una presenza nel 2009 devo dire che è stata un po' la ciliegina sulla torta ecco quindi sicuramente un ringraziamento a l'IPI per avermi dato quella possibilità è dovuto però non ha detto che ha segnato non l'hai detto che hai segnato il 3 a 0 contro l'Irlanda questo qua l'hai omesso perché lui arriva segna e va chiaro grandi numeri e poi parlavamo anche nell'intervista che mi ha rilasciato i suoi avversari siccome lui essendo un bomber i suoi avversari sono sempre stati difensori difensori come Nesta Cannavaro Ferrara cioè tu hai segnato a tutti questi? diciamo sì ho avuto la fortuna di segnare perché sono difensori ma segnare alla loro squadra sì dopo 17 anni Serie A bene o male ho fatto gol un po' a tutte le squadre quindi in quegli anni lì era un po' più complicato far gol perché quei giocatori erano veramente dei difensori stellari negli ultimi anni diciamo che avevo un po' più di possibilità di far gol infatti volevo proprio segnalare il fatto che comunque non c'era ancora la VAR e quindi i difensori potevano picchiare impunemente detta come va detta a differenza di adesso dove ti vengono a guardare col microscopio o ti danno magari un cartellino per un fallo che hai fatto 30 secondi prima al di là di questo io avevo una prima curiosità ne avrei tante sulla sua carriera immagino che soprattutto nell'ultima parte mi riferisco Chievo in Serie A non siano mancate delle delle proposte di altre società ecco quello che ti chiedo molto semplicemente è se hai mai vacillato di fronte a qualche richiesta opportunità che sicuramente ci sarà stata beh come ho detto prima indubbiamente a parte l'essere abitudinario io volevo lasciare un segno nel nel calcio italiano e se se fosse andato in una grande squadra forse l'avrei lasciato un po' di meno mentre una piccola hai sicura una piccola e poi arrivata più o meno come me ai ribaltoni della Serie A quindi quegli anni lì ed era tutta da costruire e quindi per andare via avrei dovuto fare una scelta importante e ci dovrebbe ci sarebbe dovuta stare anche una proposta veramente importante ne sono arrivate e a me ne sono arrivate particolarmente parecchie però so per certo che comunque prima passavano dalla dalla società e la società non ha mai voluto dar via io nei confronti delle persone che mi hanno preso e mi hanno dato l'opportunità di diventare un calciatore di Serie A non sarei mai andato a lotare o a bisticciare per andare via a tutti i costi un po' come fanno adesso credo che il rispetto sia veramente importante soprattutto per quelle persone che ti hanno aiutato ad arrivare dove sei arrivato e quindi quella è stata bene o male la scelta di rimanere sempre qui però ci sono state come forse la più lampante ed è quella che si è avvicinata di più è stata il Napoli dove allora parlo del 2009 dopo la nazionale aveva offerto 8 milioni di Euro più 2 giocatori adesso parliamo di cifre assurde per capire adesso un attaccante che non ha fatto neanche un gol in Serie A credo che ne chiedano 20 quindi era su io avevo già oltre 70 gol in Serie A o 60 70 gol quindi ero già un attaccante affermato e malgrado questo i valori erano veramente bassi quindi può essere anche quello che non ha fatto vacillare il Chievo perché se fosse arrivato un'offerta da 60 70 milioni credo che mi avrebbero impacchettato e portato a Napoli senti veniamo alla parte forse peggiore di tutto di tutta la tua storia che è stata la cancellazione del Chievo cos'è successo? ma cos'è successo? io credo che il Chievo avesse già avuto problemi prima avevano problemi economici ogni anno si doveva dovevano capire come iscriversi quindi non è una cosa nuova l'anno che siamo retrocessi sono stati attaccati per delle plusvalenze assurde quelle che adesso fanno passare in sordina quando ci sono plusvalenze molto ma molto ma molto ma molto più gravi mentre il Chievo per una plusvalenza qualche plusvalenza di 5-6 milioni gli hanno dato 3 punti di penalizzazione massacrati e quell'anno lì gran parte dei giocatori per fare la squadra non la si poteva fare perché indubbiamente un giocatore prima di firmare per una squadra che poteva essere non iscritta al campionato ci pensavano e quindi abbiamo fatto un po' hanno fatto un po' di acquisti un po' così alla rincorsa e quindi siamo retrocessi retrocedere dall'A alla B adesso è veramente complesso passi da 40 milioni a 6 milioni con un monte in gaggi di serie A che va sicuramente sopra i 15-20 milioni e ti ritrovi a prenderne solo 6 o sei un magnate o sei una società che se lo può permettere perché il presidente ha introiti e riesce a coprire la mancanza altrimenti rischi il fallimento come è successo ed è stato veramente un peccato perdere una squadra come il Chievo che ormai era diventata spesso si usa impropriamente il termine favola nel caso del Chievo penso che invece fosse quanto mai calzante sono di quelle storie che purtroppo capitano una volta chissà quanti anni una mi è capitata di seguirla dal vivo quando ho cominciato io che era il Brescello dei Miracoli che forse tra l'altro Sergio avrà anche incontrato all'epoca della Serie C adesso non so in quali squadre era all'epoca parliamo di fine anni 90 grosso modo insomma e poi il Chievo il Chievo sicuramente che è stato qualcosa che aveva fatto tanti anni in Serie A alcuni dei quali tra l'altro anche ad ottimo livello di classifica ma poi rimanendo per tanti anni in Serie A che è una cosa veramente incredibile per una squadra che rappresenta di fatto un quartiere di Verona esatto ed è arrivata la Clivense la tua creatura la posso chiamare così? oddio per certi versi sì l'ho voluta fortemente perché la mancanza ecco di quella squadra in cui sei cresciuto era un dispiacere enorme ecco io volevo solo dare un po' di soddisfazione a tutte quelle persone sono venute a attifare per me per tanti anni o che hanno creduto in me per tanti anni ecco volevo riuscire a dargli quella soddisfazione di poter portare avanti quel nome quella storia quegli insegnamenti tutto quello che io ho imparato in quegli anni portarlo avanti e sicuramente chi meglio di me che sono cresciuto grazie a quella società avrei potuto portare avanti quel progetto ho avuto malgrado questa intenzione parecchie difficoltà a farlo capire a tante persone però ti rendi conto che fondamentalmente forse non me ne fregava niente se gli altri non credessero in me io io volevo portare avanti quel progetto perché mi sentivo partecipe di tutto quello che era accaduto in quegli anni e quindi mi piacerebbe poter riuscire un giorno a tornare nel calcio vero e magari chissà richiamarmi Chievo non lo so però portando avanti sicuramente quei valori che che al momento tutte quelle persone che hanno sempre ti fatto Chievo non hanno più tu sei partito dalla terza categoria sì sì e siamo stati obbligati a partire dalla terza categoria perché non non siamo riusciti a prendere il titolo a prendere la serie D con con il Chievo ecco e quindi non essendoci riusciti eravamo obbligati a ripartire anzi potevamo anche non andare avanti e chiudere la società però mi sembrava giusto provarci e siamo partiti dalla terza e adesso sei in eccellenza in eccellenza perché l'anno scorso abbiamo vinto tutto in terza e abbiamo visto che avevamo fatto creato un business plan per fare per il crowdfunding quindi per i nostri soci e come piano avevamo la serie D non essendo riusciti a trovare una serie D abbiamo acquisito una un'eccellenza e siamo ripartiti da lì bene e dove vogliamo arrivare con la Clevense? beh io sono un sognatore io come ho sempre detto sono riuscito ad arrivare in serie A perché ho sempre sognato di poter arrivare in serie A ho sempre sognato di poter far gol ho sempre sognato di poter arrivare in nazionale e i sogni è l'unica cosa che nessuno ti può togliere ed è l'unica cosa che non ti costa niente quindi a me piace sognare sono uno che non molla mai finché non raggiunge i propri obiettivi e mi auguro di riuscire a raggiungere gli obiettivi che ho che abbiamo che abbiamo detto anche nel nel nostro business plan ed è quello di riuscire ad andare nei professionisti e magari di far bella figura noi ci speriamo vero? assolutamente un'altra favola Clivense mi piacerebbe tanto io Sabelino se permetti avevo una curiosità per Sergio lascio per un attimo da parte il discorso Clivense e vado sull'attualità ovvero la difficoltà che ad esempio ha la nazionale a convocare attaccanti italiani addirittura si va a pescare all'estero in Argentina eccetera eccetera la domanda la rivolgo ovviamente a un attaccante non ci sono più attaccanti italiani non vengono valorizzati cosa sta succedendo? allora intanto non è che non ci sono intanto io credo che gli allenatori dovrebbero iniziare a pensare che chi fa gol sono gli attaccanti non i centrocampisti o i false nueve come chiamano che gran parte delle volte se voi ci fate caso gioca sempre solo una punta hanno paura a giocare con due punte perché il primo obiettivo di un mister è quella di difendersi anche le punte devono essere i primi difensori io sono vecchio stampo per me la punta deve far gol la punta è quella che ti fa vincere le partite non quella che non ti fa perdere o quella che non ti fa prendere gol e questa è una mentalità che purtroppo sta portando ad avere sempre meno attaccanti sempre più punte esterne sempre più trequartisti sempre più centrocampisti avanzati in attacco e questo porta a non avere più gli attaccanti che ti fanno gol come succedeva una volta e sono cambiati un po' i tempi e credo che se vogliamo ritornare ad avere come era una volta e parlo degli anni in cui giocavo io ogni squadra e parlo di tutte le squadre che siano piccole o grandi avevano almeno due attaccanti che giocavano titolari davanti ed erano almeno due attaccanti forti non c'era storia potete giocare con chiunque adesso mi viene in mente il Piacenza in Serie A aveva Ubner Caccia che sono due grandissimi attaccanti eppure il Piacenza era una squadra normale non era sicuramente Milan Inter o Juve però Piacenza come Chievo come tutte le società anche piccole avevano almeno in rosa quattro attaccanti forti e almeno due scendevano in campo ogni partita questa è la differenza adesso se fate caso in tutte le in tutte le partite dai dilettanti alla Serie A gran parte delle volte gioca un attaccante e magari con due giocatori esterni o un trequartista o un centrocampista avanzato e questo certo che ti porta ad avere sempre meno attaccanti senti Sergio prima di lasciarti di ringraziarti per questo tuo intervento vogliamo mandare un saluto e un abbraccio al tuo grande amico Gerica La beh assolutamente sì sì ma sta bene dai fortunatamente l'ho sentito comunque lo salutiamo e gli mandiamo un abbraccio allora grazie grazie per questa tua partecipazione grazie da tutto lo studio da tutto il salotto di Sabat Vans devo dire un grandissimo giocatore una grandissima persona questo va detto assolutamente assolutamente grazie mille Sergio è un grande abbraccio non dico non dico auguri perché so che è un grandissimo abbraccio grazie a voi gentilissimi buon proseguimento grazie mille buona serata ciao Assicop Emilia Nord agente generale per Unipol SAI assicurazioni e Unipol rental per le province di Reggio Emilia Parma e Piacenza telefono 0522 384384 e allora penultima intervista di questa quarta puntata la facciamo ad un'amica del salotto di Sabat Vans ma anche un'amica del Nima Show Live il programma di Nicola Marchese che va in onda tutti i giorni su TV Parma alle ore 11 lo diciamo grazie della pubblicità e grazie anche per avermi fatto conoscere questo personaggio Giorgia Passuello esatto hai già spoilerato vabbè l'ho annunciato io comunque è una grande professionista è molto disponibile esatto l'abbiamo vista protagonista nell'ultimo Sanremo lei è stata una delle inviati di Radio Bruno infatti lei lavora a Radio Bruno da tanti anni è veronese giornalista presentatrice molto conosciuta perché è una grandissima speaker e si è collegata anche con la tua trasmissione vero Nicola per parlare del festival di Sanremo il lunedì il giorno prima della partenza e poi dopo il venerdì dovevamo ricollegarci ma ahimè i collegamenti erano un po' titubanti e allora mi ha mandato un videoclip sì anche perché ho visto che lei è stata molto impegnata ha intervistato tutti i protagonisti del festival di Sanremo quest'anno quindi veramente è un grandissimo lavoro noi l'abbiamo intervistata nel novembre del 2022 e mandiamo in onda quindi l'intervista che ci ha rilasciata al salotto di Sub Advance ciao 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 a tutti ciao a tutti le persone che ci stanno seguendo ciao a te Sabrina troppe troppe cose grazie dobbiamo essere sempre in collegamento perché così mi sale l'autostima ecco abbiamo parlato di autostima con Gina quindi ci ricolleghiamo infatti la nostra donna del mese di ottobre grandissimo successo io intanto ti ringrazio per aver accettato il nostro invito sia per l'intervista che è uscita ai primi di ottobre e sia per questo collegamento per il salotto di Sub Advance allora è una voce che molti di voi volevo ringraziarti perché veramente mi hai scelto come donna di ottobre e da qui ci sono perché tu faci veramente tantissime cose lo sai tantissime collaborazioni presentazioni quindi è stato veramente con fortuna per la fiducia che mi hai dato e per tutto quello che è successo oh grazie guarda questo ci fa piacere eccola la vediamo già abbiamo già svelato Radio Brunestate la vediamo già in alcune foto che poi usciranno durante questa nostra intervista ne faremo vedere stavo dicendo che tanti riconosceranno la tua voce forse il tuo viso un po' meno perché tu sei un personaggio soprattutto radiofonico e in video non è da molto che riusciamo anche a vederti perché è da poco che la radio va in tv e intanto lo diciamo è una delle più grandi più brave dopo le altre una delle più brave speaker di Radio Bruno eccola adesso abbiamo detto le altre ma grazie sei troppo carina troppo gentile allora ognuna di noi ha una personalità come tutti anche i miei colleghi però ti dico sì la radio quando avevo iniziato nel 1996 era soltanto voce cioè tu dovevi immaginarti la persona che parlava mentre poi con il tempo non soltanto i social ma anche poi si è cercato di avere l'immagine per esempio Radio Bruno o anche la radiovisione da alcuni anni e lì capisci bene che bisogna insomma sistemarsi bene trucco parrucco non fare mai le facce in camera ma insomma avere la libertà che avevamo prima soltanto quando c'era la radio pura è diventato un misto molto divertente e pensa che quando le persone non si sentono in tv perché magari ci sentono e ci dicono che manca qualcosa forse la fantasia da una voce cercare di fare un viso non c'è più mai ci riconoscono come sanno chi siamo senti tu sei veronese come arrivi a Radio Bruno allora guarda nel domani 6 ho iniziato in piccole radio veronesi Radio Universal c'era una radio perché Radio Blu che ha lanciato Amadeus che è a Villa Fuente di Verona in provincia di Verona poi da lì c'è stato un amore totale per le radio emiliane da prima 8 anni a Radio Pico e poi dal 2009 con Radio Bruno diciamo che andano in giro come sempre i promo diciamo i pezzetti che tu fai in onda e poi dopo discrezione della direzione artistica e dell'editore viene chiamato e alla fine io mi sento di più a casa in Emilia Romagna rispetto magari a Verona dove ho iniziato però la carriera noi ti ringraziamo noi lo diciamo sempre e trasmettiamo dalla provincia di Reggio Emilia quindi siamo emiliani a tutti gli effetti qui sai il nostro campanilismo poi ci piace senti parlare bene dell'Emilia chiaramente salutiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo da tutta Italia anche dall'estero perché sappiamo che anche qualche contatto dall'estero ce l'abbiamo e questo ci fa piacere quindi arriviamo anche lì giustamente e allora tu sei una giornalista presentatrice adetta agli uffici stampa speaker hai fatto programmi molto interessanti molto belli come Sanremo e Radio Buonestate anche allora guarda ti ho sentito a pezzetti vado nel senso la comunicazione a 360 gradi per quel che riguarda gli eventi estivi di Yoga Radio Brunestate lì naturalmente ci sono gli ospiti più importanti a livello nazionale e internazionale della musica qui sono insieme a My Joy che è stato veramente al gioco nell'immagine appunto io avevo un ciuffo bianco come lui è veramente una persona straordinaria perché durante le interviste durante i collegamenti mi piace sempre molto scherzare ed entrare quasi insomma in sintonia con questi personaggi che si intervistano e stanno sempre tutti molto al gioco qui è Loredana Bertè un grande mito per tutti all'inizio alla prima intervista che l'ho fatta perché l'ho fatta nel tempo diverse avevo un po' di timore perché questo personaggio bello toast poi alla fine c'è una persona meravigliosa sempre sorridente sempre molto generosa e gentilissima poi abbiamo altre foto da proporre con altri personaggi ecco qua con Zucchero ma voi dovete sapere che ogni volta che intervisto di questi grandi cantanti e mi presento vedo il nome Georgia che viene dalla canzone Giorgio My Mind di Ray Charles me la cantano e quindi iniziamo sempre l'intervista che ho un'emozione grandissima perché questi grandi che calcano i palchi di tutto il mondo che mi dedicano personalmente questa cosa per me è un'emozione veramente unica qui abbiamo Laura Pausini Piaggio Antonacci ecco ti posso dire ho preso Zucchero tutti i personaggi veramente molto molto generosi alla mano pazienti nel senso che comunque sai alla fine quando sono in tour hanno sempre le stesse domande quindi sono anche quello molto carino molto gentile ma e quest'anno Radio Bruno l'abbiamo visto Radio Bruno Estate l'abbiamo visto anche sulla 5 è certo è nata questa nuova collaborazione quindi con Mediaset che ci ha permesso di essere sul canale la 5 con 4 puntate da subito dopo questo agosto fino a metà settembre ogni martedì ed è stato veramente un grande successo perché a livello proprio di share di ascolti si aspettavano una cifra e l'abbiamo raddoppiata quindi veramente siamo tutti molti contenti il gruppo di lavoro di Mediaset è naturalmente tutto il nostro certo io ti vedevo nel backstage a intervistare tutti i vari cantanti che sono passati da Radio Bruno Estate ti ho visto ti ho seguito ti ho seguito e ti abbiamo visto anche perché lì sono bella 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 perché c'ho il gruppo il parrucco e capito mi conciano bene per le feste abbiamo visto una foto con Gianni Morandi anche eccola Gianni Morandi è un amico di ragione quindi partiamo da questo quindi è quasi sempre ogni anno se non mi costruisce i nostri ospite e lo è anche durante il San Revo perché magari è un ospite perché è stato presentatore una persona straordinaria credo che sia l'unico al quale chiediamo sempre che cosa vuoi che non ti chiediamo e lui dice no non c'è problema chiedetemi tutto parlate di tutto non c'è proprio problema perché mi sento a casa ed è sempre veramente un personaggio affascinante da intervistare senti tu hai fatto anche Sanremo sì se ti dichiagli capisci che qua si va avanti con l'età ormai 18 anni come inviata a Sanremo tra una e l'altra però Sanremo è un'emozione unica secondo me è il massimo dai è il massimo per chi ama intervistare perché chi ama la musica è proprio il centro più importante che ci sia per la musica italiana da lì poi dopo un attimo i successi i personaggi oppure anche tormentoni che poi prendiamo avanti per diverso tempo e quindi percepisci proprio anche l'emozione che hanno questi cantanti anche perché precisiamolo non siamo gli unici ad intervistarli immaginate che i cantanti la sera sono sul palco e tutti dalla mattina al pomeriggio continuano a fare interviste hanno veramente un fisico importantissimo per reggere tutto questo stress sono veramente delle emozioni quasi incredibili ma io credo però per un giornalista cioè essere inviati a Sanremo è veramente un grande palco scenico sì infatti è il top perché raggiungi soprattutto se sei specializzata in musica e in interviste musicale è il top potrebbe chiedere oltre nemmeno la vision song contest raggiunge insomma la felicità che puoi avere a essere inviata a Sanremo sicuramente e tu Georgia come ti prepari quando devi intervistare qualche personaggio allora è al tutto stacanovitista perfezionista quindi mi ascolto e parlo tutti gli interviste dell'ultimo più tutti i personaggi che devo intervistare e è sicuro diciamo così ad avere in me delle non sapere e snocciolare sono lì con questi personaggi non so a parte scrivermi su un foglietto il nome della canzone e l'album che uscirà perché altrimenti non ce la faccio a ricordarmeli tutti soprattutto in eventi come Sanremo poi dopo cercare di percorrere la corrente che si crea lo spiraglio di una risposta che si crea che potrebbe generare un'altra domanda proprio perché di base c'è tutto questo frutto per i personaggi e poi nell'intervista che magari Nicola se hai la foto del promo della locandina dell'intervista che ci hai rilasciato sulle pagine di Sabatvance Facebook e Instagram delle alcune foto che sono uscite che potete rileggere chiaramente è uscita da poco quindi ai primi di ottobre ci hai raccontato che tu hai una grandissima ammirazione per Mara Venier questa cosa mi ha colpito sì una passione immensa immensa mi piace tantissimo come intervista e personaggi che molto molto spesso insomma sono suoi amici però proprio come li mette a proprio agio è un personaggio che sembra appunto uscita da casa sua ed entrata in casa nostra e quella naturalezza lì o ce l'hai o non ce l'hai poi dopo puoi lavorare molto studiare molto però è proprio una dote innata diciamola così e ti piacerebbe lavorare con lei mi hai detto certo naturalmente non voglio rubare il posto a nessuno ci mancherebbe però mi piacerebbe molto lavorare a stretto contatto con lei capire e carpire i suoi segreti eventualmente e lavorare insomma in una macchina da guerra quale Domenica sicuramente non è così facile ah immagino e poi c'era anche raccontato che hai un sogno nel cassetto un'intervista che è ce ne vuoi parlare vado allora io da quando ho iniziato questo mestiere nel 96 con la grande passione volevo avrei voluto intervistare Vascolossi però non è successo è successo soltanto nel 2000 al festival nel backstage questa grande manifestazione che c'era all'arena di Verona dove lui è arrivato mi sono fatta a fare l'autografo ma non ha rilasciato a nessuno di noi insomma una dichiarazione quindi ora tanto così però sono convinta se un giorno riuscirò ad intervistarlo è avendo realizzato il sogno nel cassetto lasciare tutto perché quando si raggiunge il sogno nel cassetto che si fa poi no 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 noi speriamo di no allora ma è così inarrivabile è così lontano così non rilascia mai interviste è un personaggio che rilascia interviste a determinati giornalisti che ormai negli anni sono arrivati che probabilmente nelle sue canzoni si avverte c'è molta sensibilità fragilità e probabilmente vuole essere a casa anche lui sentendosi a casa con persone che lo intervistono da anni e che possono metterla proprio a quindi diciamo che c'è una cerchia di giornalisti famutissimi che lo possono intervistare e in questi ancora non ci sono alcuni di pito dove l'eleco dove fare il credito che arrivi volentieri Giorgia i prossimi impegni i tuoi prossimi impegni da domani dall'8 di novembre in poi dall'8 di novembre in poi allora sto facendo molte masterclass ovvero dei corsi di due giorni sabato e la domenica come insegnante di radio all'interno di un centro di comunicazione a Verona che si chiama Centro Superiore delle Comunicazioni a Verona e lì in pratica conosco tanti giovani che hanno la passione della radio e cerco di trasmetterla anche a loro e quindi questo mi sta coinvolgendo tantissimo poi verso fine novembre sarò ospite ed è un piacere per me l'Università di Verona perché parlerò di comunicazione di radio tutti gli studenti di lettere e quindi porterò la mia esperienza e sto facendo diverse interviste inaugurate naturalmente da te che ti porti sempre fortuna te l'ho detto e quindi sarà un po' di novembre molto molto interessante e molto bello sì bene questo ci fa molto piacere Giorgia allora noi ti ringraziamo ti lasciamo chiaramente ai tuoi impegni grazie di essere stata ospita al nostro salotto e speriamo di conoscerci anche personalmente perché ci siamo sempre parlate telefonicamente quindi chissà un giorno magari riusciremo anche a vederci grazie grazie di tutto e un grandissimo in bocca al lupo un abbraccio grazie a voi scusate la location ma o sono sempre in auto o sono sempre in diretta o sono a fare l'insegnante perciò sono qui all'aperto e per fortuna ci sono ancora belle giornate grazie a voi dell'ospitalità è sempre un piacere un abbraccio grazie mille ciao Giorgia ciao grazie Assicop Emilia Nord agente generale per Unipol SAI assicurazioni e Unipol Rental per le province di Reggio Emilia Parma e Piacenza telefono 0522 384384 e abbiamo lasciato per ultima una grande intervista che vi riproponiamo e che abbiamo fatto a Marco Scarpati giurista avvocato docente universitario e scrittore e vi invito a seguire questa bella intervista che esula un po' dal mondo dello spettacolo e dello sport che vi abbiamo proposto fino ad oggi però ci tenevamo particolarmente a riproporvela con questa intervista noi concludiamo questa serie del salotto di Sabat Vance e naturalmente ringrazio tutti gli ospiti che sono intervenuti dei quali vi abbiamo riproposto le interviste ringrazio tutti gli amici che ci hanno seguito per questo mese di marzo ringrazio chiaramente il nostro regista e produttore Nicola Marchese buonasera Nicola buonasera a tutti e grazie per essere stati con noi e vi diamo appuntamento speriamo a presto non abbiamo una data non abbiamo un periodo però sicuramente ritorneremo grazie a tutti a volte ritornano a volte ritornano non si sa se è una minaccia o una promessa ma chissà bye bye ciao ciao e abbiamo presentato prima l'altro ospite in studio che è l'avvocato Marco Scarpati l'abbiamo conosciuto su Sabat Vance perché abbiamo pubblicato e abbiamo parlato del suo ultimo libro la posizione del missionario altre storie vere di bambini cambiamo un po' argomento adesso eccolo qua il libro poi lo vediamo anche in sovraimpressione con la foto che è uscita su Sabat Vance che potete naturalmente andare a rileggere nelle pagine social Facebook e Instagram però visto che abbiamo qua l'autore ce lo facciamo raccontare da lui prima però di parlare del libro volevo parlare e capire perché arriviamo a questo libro cioè perché visto che l'avvocato ha tantissime attività che vanno oltre al suo abituale lavoro innanzitutto è giurista appunto avvocato docente universitario e anche scrittore qua ci sono due sono due i libri ci sono tanti di più ma qui ne ho portati due ha collaborato e lavorato con organizzazioni internazionali e ONG oltre ad aver diretto e coordinato diversi progetti di cooperazione internazionale in quattro continenti come scopo aiutare i bambini in situazioni di pericolo è così? sì più o meno? no nel senso che ho iniziato molti anni fa a lavorare su alcuni temi che riguardavano le problematiche internazionalistiche io quello insegno cioè diritto internazionale e tutela i diritti umani da lì sono passato alla cooperazione internazionale e dalla cooperazione internazionale mi sono ritagliato un settore che nessuno affrontava 40 anni fa che è quello della tutela dei bambini era un settore completamente nuovo adesso fortunatamente ce ne sono molti di più che se ne occupano ed è una cosa positiva occupandomi di bambini ho girato per il mondo lavorando sui bambini lavorando coi bambini soprattutto e facendo una cosa molto bella che era io quando ero bambino speravo di poter fare questo cioè di girare per il mondo a conoscere gente a lavorare con persone di svariate nazionalità lingue e vediamo qualche foto anche di dei tuoi viaggi quella è una bellissima avventura fra l'altro c'era anche mia moglie in quell'avventura in Togo dove grazie appunto all'aiuto di mia moglie avevamo creato un progetto che riguardava le ragazzine bloccate all'interno della prostituzione minorile nel paese e grazie a lei riuscimmo a entrare in questa città delle donne dove le abitanti erano solo donne e io ci potevo entrare perché ero con mia moglie e tutti quanti erano molto stupiti del fatto che io girassi per l'Africa con la moglie no però è stata finora una bellissima avventura che mi ha dato tantissimo molto di più quello che io ho dato agli altri e che continui comunque a certo e continui a girare il mondo fra poco io riparto fra poche settimane a inizi di maggio sarò di nuovo in Cambogia adesso non faccio più le cose un po' strane e avventate che facevo che sarebbero? beh nel senso che allora anni fa io facevo cose molto più come prima linea per cui entravo con la polizia nei bordelli entravo in luoghi dove venivano tenuti prigionieri i bambini adesso l'età e le cose che ho scritto e fatto fanno in modo che io venga convocato dai governi per aiutarli a scrivere nuove leggi per creare per formare il personale che deve tutelare i bambini per cui ho un ruolo differente più tecnico che però mi permette di fare quella cosa che io desideravo tantissimo da bambino cioè svegliarmi la mattina e non capire in che lingua avrei svolto la giornata quelli sono i paesi con i quali collabori maggiormente allora io mi sono specializzato negli anni in sud-est asiatico molto per cui i paesi dove ho lavorato di più sono Cambogia dove ho avuto casa Vietnam dove ho adottato una bambina mia figlia Filippine Cina Indonesia che sono paesi nei quali ho operato o su richiesta del governo oppure su richiesta di organizzazioni internazionali o di ONG internazionali poi in Africa Togo Etiopia e altri paesi dove abbiamo creato progetti per la tutela dei minori o delle donne deprivate dai loro figli e poi dopo in Sud America in Centro America dove abbiamo fatto progetti in Guatemala in Costa Rica e in altri paesi dove il problema soprattutto dello sfruttamento sessuale dei bambini è molto sentito ma come arriva uno ad occuparsi di un tema così importante assolutamente per caso nel senso che anni fa quando avevo adottato mia figlia l'organizzatore che aveva adottato mia figlia mi chiese se potevo aiutarli visto che la mia materia era quella la cooperazione internazionale a creare dei rapporti in Vietnam per cui in un viaggio mentre stavo andando in Vietnam io chiedo se potevamo fermarci in Cambogia che era un paese che a me piaceva dal punto di vista della fascinazione personale e prima di andare in Cambogia mi fermai in Thailandia in Thailandia mi capitò una cosa clamorosa su cui appunto ho scritto e che mi ha coinvolto personalmente cioè un signore un venditore cercò di vendermi delle serate e delle nottate con i bambini questa cosa mi sconvolse perché io io sono nato e vissuto e fino allora cresciuto bene in una famiglia normalissima dell'Europa per cui certi problemi non me li erano neanche mai posti per cui tutti in un colpo mi sono dovuto porre dei problemi e quei problemi hanno fatto in modo che venissi coinvolto sempre di più fino appunto a entrare in bordelli e tirar fuori bambini e bambine a cioè ci si riusciva oppure sicuramente ci sarà stato delle non te li danno i dietro volentieri qualche volta ci hanno anche sparato e queste cose qua però il problema è che io devo dire ma non perché sia incosciente particolarmente io non ho mai avuto molta paura del fatto che potessero uccidermi o fare altro perché non credo che quello sia lo scopo di chi commercia i bambini ho sempre avuto molto più paura della possibilità di infangare il mio nome di coinvolgermi in cose strane per cui ho sempre cercato di essere molto attento rispetto a queste cose però voglio dire io sono sempre stato convinto che qualsiasi persona fosse stato coinvolto come me in queste cose non ne sarebbe uscito il leso non ne sarebbe uscito dicendo vabbè chi se ne frega sono cose che ti sconvolgono e alla fine capisci che non puoi non reagire la parola la frase commerciano bambini è terribile che forse magari uno che è abituato lo dice per me sentirvi commerciano bambini è una cosa nel libro che ha lì davanti il primo che il rumore dell'erba che cresce racconto la storia di una volta che siamo entrati in un bordello e ci hanno venduto delle bambine non solo ce le hanno vendute ma ci hanno fatto la ricevuta due bambine affittate una bambina comperata due birre una coca cola questo era il listino che io ho portato in italia ho portato in giro per il mondo perché tra l'altro nato in maniera strana nel senso che io ero in panico totale completamente rincoglionito scusate la parola ma per cui a un certo punto ho detto visto che stavo tirando fuori dei soldi e la preoccupazione di chi lavora per le organizzazioni internazionali è sempre quella di avere le ricevute di quello che fa per cui ho detto ma mi servirebbe una ricevuta ma mi è venuta proprio mentre la dicevo ma che stupidata stai dicendo il problema è che il tenutario del bordello non aveva nessun problema ha tirato fuori il blocco ricevute e me l'ha fatta io rimasi stupito la portai in Europa mi diede quella ricevuta mi diede titoli sui giornali di mezzo mondo e anni dopo un signore mi spiegò perché mi fecero quella ricevuta e me lo disse era un signore che girava per il mondo era un rappresentante fra l'altro delle nostre zone che girava per il mondo e quando io gli chiesi ma non ho mai capito perché me l'ha fatto e lui mi ha detto ma scusi ma in che lingua era ho detto era in cambogiano e fa beh scusi era una ricevuta ho detto sì l'ho capito che era una ricevuta era una ricevuta lei crede che quando io torno dai paesi in cui lavoro portino la ricevuta da qualcuno che la fa tradurre la traduco io per cui quella ricevuta chi l'ha avuta poteva poi utilizzarla per dedurre la spesa e in effetti poi dopo questa cosa qua mi fece pensare che non solo vanno ma poi io lo paghiamo noi non ci si crede non ci si crede a una cosa del genere quali sono i paesi peggiori su questi allora i peggiori sono quelli che offrono i clienti quindi ci siamo anche noi perché i paesi peggiori sono quelli che pensano che sia corretto andare dall'altra parte del mondo e comprare poi ci sono paesi nei quali è più facile trovare bambini in vendita di norma sono paesi con economie ma in vendita cosa vuol dire in vendita per una per una notte per una storia te li vendono li puoi portare cioè te li vendono cosa vuol dire te li vendono in maniera differente ci sono bordelli veri e propri di norma dove ci sono bambine ragazzine età che va dai 12 ai 18 anni mediamente quella 12-18 anni in Asia equivale a una nostra bambina dagli 8-9 ai 12-13 anni perché poi una bambina asiatica di quell'età lì dimostra molto meno dell'età a tutto tranne che qualsiasi tipologia di fisico femminile ci sono luoghi dove appunto puoi trovarle fra l'altro fino a poco tempo fa era abbastanza facile adesso è diventato un pochettino più complicato fortunatamente da trovare su internet dove li vendono ma ma anche su internet li puoi prendere no su internet sai dove puoi trovarli ah ok perfetto ci sono quindi in estremoria oppure se uno cerca dei maschietti lì è un po' più complesso quindi non solo femmine anche maschi tutto ragazzi il mercato offre quello che la gente cerca in effetti il vero problema come ti dicevo prima è il cliente non l'offerta della merce se non ci fosse il cliente che non ci sarebbe perché è la solita legge della domanda dell'offerta se tu domandi ti offrono abbiamo avuto ospite qualche puntata fa un'ambasciatrice dell'Unicef che ci raccontava che quando lei è vissuta in Iran la volevano vendere per per sposarsi a otto anni otto anni cioè è sconvolgente se ci pensi cioè avevano offerto dei soldi alla famiglia per poterla andare in sposa è il matrimonio di bambine e bambini è una cosa matrimonio di minori è una cosa che purtroppo è fortunatamente abbastanza residuale ci sono pochi paesi pensiamo che fino a quando ero bambino io comunque c'erano matrimoni di donne minorenni anche da noi minorenni un conto otto anni sono veramente pochi fortunatamente noi a un certo punto abbiamo capito io mi ricordo che quando ero ragazzino io bambino all'elementare si era sposata una bambina di 14 anni per cui era piccola poi fortunatamente prima lo Stato e poi la Chiesa in Italia hanno capito che non si poteva far sposare bambini o minorenni questa cosa è importante però è una cosa che è capitata fino a non tantissimi anni fa anche da noi purtroppo in molti paesi il matrimonio così anticipato deriva dal fatto che più sono giovani più è facile che non abbiano avuto rapporti sessuali e quindi mamma mia è vero noi che non siamo abituati a questi argomenti ti fa venire la pelle d'oro no ma non è che ci si abitua no no ma in generale comunque sì oppure magari si sentono si sentono però così così diretti poi chi li vive io non so con che spirito uno possa andare io sono una persona molto allegra e di norma assolutamente ridanciano amo la vita amo tutte le cose che normalmente le persone amano ho dedicato questa vita a queste cose credo che come ti dicevo prima credo di aver ricevuto molto di più quello che ho dato perché comunque queste cose mi hanno riempito la mia vita riempito di di bellissime esperienze di bellissime conoscenze anche solo ormai sono tanti anni che faccio questo mestiere andare in un paese e vedere bambini che tu non ti ricordi più che sono diventati adulti che ti presentano i loro figli la loro famiglia e ti spiegano che cosa è successo e si ricordano di te mi è capitato qualche anno fa che ero con il nostro direttore giù in Cambogia e su un aereo un ragazzino un ragazzo un giovane uomo che faceva lo steward ci ha fermato per ringraziarci io non me lo ricordavo assolutamente anche perché erano passati più di dieci anni e però la sua vita era cambiata e voleva farci vedere quanto era cambiata che bello che bello che bello beh la nostra direttrice attuale giù in Cambogia la rappresentante di noi giù è una ex bambina di strada che si è laureata si è specializzata e adesso dirige ci sono grandissime soddisfazioni però immagino eh beh sì sono queste tu hai collaborato anche con personaggi famosi con i quali sei andato anche a fare alcune missioni tra questi c'è sicuramente Beppe Carletti dei Nomadi che ha scritto anche la prefazione di questo libro L'umore dell'erba che cresce lo zio è un amico ah lo zio eccolo lo vediamo in foto è un amico è un amico stupendo è stata una delle più belle esperienze di amicizia della vita è una persona sempre presente generosissima io lo dico sempre scherzando è una di quelle persone a cui quando telefono per chiedergli un impegno non mi dice ma che giorno aspetta un attimo voglio vedere in agenda cerchiamo di capire di norma è a che ora quando è a che ora è stupendo perché è un vero amico ed è una persona veramente unica fra l'altro rispetto al mondo dello spettacolo quando la prima volta è venuto con me io ero un po' intimorito perché dicevo diavolo io faccio una vita un po' strana in posti vari ed eventuali dove l'ultima cosa sono gli alberghi o il mangiare o quant'altro beh mi sono trovato una persona che si svegliava prima di me che tutto il giorno era iper frizzante che aveva voglia di fare tantissime cose e che aveva voglia di capire e per me era una cosa stupenda poi altri ce ne sono altri tanti sì sì abbiamo beh una persona che recentemente è scomparso che ci ha aiutato tantissimo dal punto di vista economico è Maurizio Costanzo stiamo vedendo la foto e questo è un Maurizio Costanzo show sì a un certo punto alcuni anni fa mi invitava normalmente due o tre volte l'anno ci ha aiutato economicamente molto lui stesso ha fatto con noi dei sostegni a distanza ha finanziato di persona e facendoci raccogliere soldi nei suoi spettacoli dei centri per la tutela dei bambini lui e sua moglie sono due persone della cui sensibilità rimango sempre assolutamente felice veramente belle persone e vi assicuro bastava che io telefonassi e lui mi invitava immediatamente se mi scordavo di chiamare io ogni tanto mi chiamava la sua segreteria dicendo ma non c'è niente da perché è un po' che non viene quindi ed era ed era stupendo fra l'altro una persona bellissima che qualche anno fa fece un articolo su di me dicendo che qualsiasi cosa poteva essere inventata sul sottoscritto era assolutamente improvabile perché lui mi conosceva e su di me avrebbe messo la mano sul fuoco ecco quindi una persona testimonianze veramente importanti sì è veramente una bella bellissima persona che fra l'altro ci ha fatto conoscere anche un'altra serie di persone che ci hanno regalato il loro aiuto facendo spettacoli facendo aste di beneficenza nel suo teatro quindi veramente è una persona stupenda sì anche perché magari le persone conosciute hanno una visibilità importante che comunque possono aiutare dare una mano certo facendoci conoscere altri giornalisti facendo veramente ci ha dato una grossissima mano credo che lui solo sia sicuramente responsabile di non meno di 3 o 4 mila sostegni a distanza in giro per il mondo lui per esempio un'altra che ci ha aiutato moltissimo in questo è stata Raffaella Carrà che è stata grandissima generosissima e anche lei io rimango stupito perché per me erano persone del televisore erano persone che non conoscevo inarrivabili non solo inarrivabili però erano secondo me persone che non erano del mio mondo il mio mondo ahimè purtroppo è fatto di avvocati e loro clienti oppure di studenti quindi ed è stato anche con lei ma anche con diversi altri sono veramente stati un altro amico stupendo Paolino Belli che è un'altra persona ci deve essere una foto eccola una foto con Paolino Paolo è un'altra persona generosa buona brava ma veramente buono abbiamo un unico grosso problema che sono le tifoserie calcistiche su cui ci dividiamo in maniera vergognosa lo so però io sono dalla tua parte e lui invece dall'altra è nell'altra lui è bianconero noi siamo nerazzurri noi siamo nerazzurri e su questo siamo soffrendo di norma ci prendiamo ci prendiamo in giro è stato generoso questo fine settimana perché era impegnato in spettacoli a Napoli e quindi non mi ha chiamato ma di norma mi telefona dicendo scusi ma lei che squadra tiene oppure vedendomi in giro io con lui non parlo perché non no infatti vabbè però diciamo questi personaggi famosi è con Lucio Dalla Lucio Dalla è stato ha fatto uno spettacolo per Rock No War e i fondi di quello spettacolo sono stati dati da Rock No War che è una delle nostre forti associazioni amiche per aiutarci a creare dei centri Rock No War ha finanziato interamente un centro in Cambogia per giovani vittime della prostituzione e del traffico e un altro lo ha finanziato in Laos sono persone stupende ma veramente stupende e ci sono progetti imminenti qualcosa ci sono progetti che stanno andando avanti in Cambogia in Etiopia ci sono in Cambogia un centro che si chiama Via del Campo e si chiama Via del Campo su autorizzazione della fondazione di Fabrizio De Andrè perché abbiamo deciso una quindicina di anni fa di costruirlo dietro al porto come Via del Campo a Genova dove c'erano tutti i bordelli della città da quando noi siamo lì quando arriviamo lì i bordelli erano 64 adesso sono due e insomma e quindi abbiamo dato una bella sgrossata a dire di sì e allora diamo qualche secondo di pubblicità l'ultimo stacco e poi torniamo in studio e parliamo anche del libro che è appena uscito di Marco Scarpati e rieccoci al saluto di Sabat Vans con i nostri ospiti in studio Laura Spimpolo e Marco Scarpati abbiamo parlato con l'avvocato Scarpati che ci ha raccontato un po' quali sono le sue attività in queste organizzazioni internazionali a difesa dei bambini e stavamo parlando anche di tutta la beneficenza che viene fatta da personaggi famosi di cui noi non siamo a conoscenza ed è proprio vero che la beneficenza si fa in silenzio è vero? Sì poi ci sono aziende anche che lo fanno e noi volentieri offriamo a loro la possibilità di utilizzare queste cose ognuno lo fa per finalità proprie con la propria disponibilità poi rimani stupito anche dal cosiddetto obolo della vedova nel senso che non sono le dimensioni dell'aiuto ma sono la voglia dell'aiuto che ti stupisce e ti rinfranca è importante e allora parliamo di questo libro La posizione del missionario già il titolo come come hai pensato a questo titolo? Allora La posizione del missionario nel capitolo che si chiama La posizione del missionario subito dopo c'è scritto e voi subito pensare male perché in effetti non c'entra niente con quello che uno pensa Io invece avevo pensato male Ecco ma l'ho fatto apposta perché volevo provocare Allora la posizione del missionario è legata alla storia di un missionario di un missionario che sicuramente ha fatto tantissimo bene ai bambini ma che alcuni anni fa siamo riusciti a far arrestare e condannare per avere fatto un altissimo numero di abusi sessuali con bambini in Centro America e il titolo Quindi è una storia vera? Sono tutte storie verissime Questi sono racconti Quelli sono racconti di storie vere di storie vere che mi sono state o raccontate da bambini da ragazzini o da un tempo ragazzini adesso diventati adulti oppure che ho vissuto io in prima persona in qualità di legale o in qualità di consulente di quello che stava accadendo La posizione missionaria è dovuta al fatto che io fin dall'inizio ho sperato che perché è veramente stata una brava persona in vita sua potesse spiegarci perché cos'era successo a un certo punto perché a un certo punto della sua vita ha abbandonato la parte bella io lo dico nel libro ma ha abbandonato la parte buona per entrare nella parte oscura come in Star Wars e per me era importante riuscire a capirlo perché sarebbe stato importante capire qual è il meccanismo che a un certo punto ti porta su una posizione così spaventosa che sicuramente non era nelle sue posizioni fino a un certo punto della sua vita e però io ce l'ho avuto di fronte per tutto il processo ce l'ho avuto di fronte durante gli appelli ce l'ho avuto di fronte e lui non ha mai parlato non ha mai parlato durante il processo ordinario penale non ha mai parlato neanche di fronte al processo della chiesa nella quale è stato rilotto allo stato laicale per cui per me il problema e lo dico alla fine io in tutta la sua storia non ho mai capito qual era la sua posizione perché a un certo punto e per me invece sarebbe stato fondamentale perché perché in tutti questi anni io ho fatto le norme per molte ONG o organizzazioni internazionali che trattano bambini quindi capire cosa a un certo punto scatta nella testa perché a un certo punto ti metti nel lato scuro sarebbe stato fondamentale per creare regole che potessero aiutare i bambini ma anche chi si trova in un momento di grossa difficoltà e purtroppo lui non ce l'ha detto ed è questa la posizione non lo so non l'ha detta comunque diciamo che il libro parla di storie di abusatori sono tante storie dove si parla di abusi su bambini di abusi e in realtà anche di storie divertenti e belle perché poi non sono tutte storie pessimiste ma ci sono anche storie di ragazzini che sono riusciti a prendere in giro il mondo intero riuscendo a giocare sulla loro capacità di ridere e sorridere della loro vita beh c'è la storia di un ragazzino romano che a me faceva impazzire perché aveva questo linguaggio molto romanesco e con una capacità di fare esempi che mi facevano veramente io me le sono segnate tutte perché ridevo mentre me la raccontava e che alla fine veniva da una famiglia molto paludata per cui quando hanno scoperto che era un giovane omosessuale hanno cercato di fermare la sua vita bloccando ogni cosa mandandolo a fare uno di questi corsi di psicologia rieducativa rispetto al suo orientamento sessuale e lui è riuscito a metterla assolutamente gentilmente a tutti quanti perché a un certo punto è riuscito a scatenarsi da queste catene è riuscito a farsi mandare dei suoi genitori a fare università e quant'altro in Inghilterra con l'accordo che lui non ritornasse in Italia per un po' di tempo e in realtà i genitori non hanno mai scoperto che la persona con cui lo autorizzavano a stare con cui è andato spesso vissuto in Inghilterra e quant'altro era il suo fidanzato non il suo compagno di giochi fin da bambino e il libro dove lo possiamo trovare? Nelle migliori librerie? Libreria Amazon Feltrinelli eccetera eccetera lo si può mandare a prendere arriva nel giro di un paio di giorni è un libro che si trova spero più o meno ovunque e lo stai presentando un po' e lo sto presentando lo sto presentando perché comunque è un libro che è molto interessante c'è molta attenzione nei confronti di questo libro e comunque attenzione in generale su tutta l'attività che comunque io spero perché spero che sia letto quello che mi sta facendo piacere è che cominciano a invitarmi scuole ah ecco importante perché il problema è come nell'altro nell'altro libro che è parlarne che cresce parlarne con i ragazzi su quel libro lì io ho avuto soddisfazioni incredibili fra l'altro è alla decima ristampa quindi siamo in che anno l'hai iscritto nel 2006 sono passati degli anni quindi è un libro che comunque è sempre attuale si continua a essere venduto e io rimango sempre stupito ma non solo hanno fatto una riduzione teatrale io quando sono andato a vedere la riduzione teatrale nascondendomi fra il pubblico e pagando il biglietto non volevo essere perché mi vergognavo come un assassino ma perché? perché io non sono un uomo di spettacolo per cui queste cose mi imbarazzano la stranezza era che di fianco a me c'era Gasman perché recitava nel nel gruppo di persone che recitavano c'era sua moglie Gasman Alessandro Alessandro fra l'altro una persona affabilissima c'erano è stato per me è stata una cosa stranissima perché vedere che qualcuno metteva mi avevano chiesto l'autorizzazione ho firmato l'autorizzazione perché poi la riduzione teatrale come sempre di un libro di racconti e di episodi è una cosa strana e però io rimasi si è rimasto soddisfatto beh rimasi come un bambino di fronte al primo gelato della sua vita nel senso che per me era una cosa stupenda vedere la propria opera cioè chiaramente ma fra l'altro col fatto che quando mi ha chiesto il regista ma ti sei riconosciuto io ho detto ma io non capisco non sapevo di aver scritto quella roba lì me la sono riletta perché ma l'ho scritto io questo quelle bestie lì gli attori quando leggono le cose che tu scrivi tu gli dici ma io non ho scritto quella roba lì perché la leggono in maniera assolutamente così bella che dici no ma io non ho scritto una roba così bella è una più brutta la roba che ho scritto in collaborazione con Assicop Emilia Nord agente generale per Unipol SAI assicurazioni e Unipol Rental per le province di Reggio Emilia Parma e Piacenza telefono 0522 38 4384 4384 6384 4384 4384 5384 5384